Piccolo gruppo, livello 2, fattinaggio artistico d'oro, Interkish, Grimmie, ci prepari, Robert Grimmie, nel locale di Cabaret, più famoso di sempre, dall'atmosfera maliziosa, chic ed elegante, seducenti e bellissime ballerine conquistano il pubblico. I sogni sono desideri e se hai fede, chissà, un giorno, la sorte ti sorriderà. Sogna fermamente, diventi per presente e il sogno ti verrà realtà. I grandi momenti, arriva l'ora, la grande importanza, è il vostro momento. A presto! A presto! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.